Ciao! Ehi là, bentornati! Dove eravamo rimasti l'ultima volta? Abbiamo guardato Speed. Abbiamo guardato Speed. Tu hai guardato Speed. Io ho guardato Speed. E io ti avevo chiesto se poi hai guardato il finale di Speed 2. L'ho fatto. Ebbene sì, l'ho fatto ed è stato emozionante. Cioè è stata una grande sorpresa. Una grande sorpresa, ma più che altro è stato ancora più sorprendente perché ovviamente ho visto solo l'ultima mezz'ora, quindi non capivo assolutamente nulla di quello che stava succedendo. Era quello che volevo. Big surprise. C'è William Defoe? Che fa il cattivo. What? Con i capelli sparati. Sì, che ha tipo questo taglio un po' improbabile. No, però la cosa della nave mi ha fatto morire. Più che altro, ovviamente non ha senso perché si sarebbe incagliata già da mo'. Ma non importa, non importa. La nave arriva e taglia in due un paese. Tra l'altro non so se hai notato l'easter egg di Speed 1 bellissimo, ma penso di no. No? Qual è? C'è Neno fantastico. Il tipo a cui lui ruba la barca per andare a raggiungere l'aeroplano. È lo stesso della macchina! Esatto! Esatto! Quindi solo per quello volevo che lo vedessi. Oddio! E William Defoe, ovviamente. No, sul momento non ci sono arrivata. Adesso che me l'hai detto ho ricollegato. È una cosa molto stupida che però mi fa molto ridere. No, è vero. Fermo restando che Speed 2 è una merda. Sì, ma sai che già solo vedendo quella mezz'ora si capisce che comunque c'era meno cuore in questo film. Vabbè, comunque è stato bello, un'esperienza. Grazie, davvero. Prego, quando vuoi. Contaverò per sempre. So tanto che sto per pagarla malamente, questa esperienza, quindi... Perché oggi siamo qui per me. Esatto, tocca a te a vedere un film e, rullo di tamburi, c'è un plot twist oggi. Subito, ancora prima del plot c'è il plot twist. Perché, tu sai, io sono la persona più indecisa del mondo. E quindi, secondo te, io sono stata in grado di scegliere un film tra i due che avevo... Anzi, i tre che avevo in mente? No. E quindi? Quindi ho detto uno lo scarto a priori. Ho detto vabbè, lo terremo per più avanti. Però gli altri due, io voglio darti qualche piccola... Ti do qualche piccolo, non indizio, però giusto qualche informazione così tu mi dici scelgo questo o scelgo l'altro. Ah, quindi... Dopo me ne lavo le mani e decidi tu. Ma scusa? No, ma non ti dico qual è il film, ovviamente. Devo vederne due? No, 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 no. No, ti dico... Scusa, no, perché ci sta solo ascoltando, cioè tutti. Noi registriamo la domenica, io a un certo punto dovrò andare a letto. No, no, è solo uno, è solo uno. No, però ti dicevo, ti darò qualche info e tu mi dirai quale dei due preferisci. Ok, ok, quindi le due opzioni sono... Cioè, quindi mi scavo la fossa con le mie mani, praticamente, cioè è tutta colpa mia. Esatto, quindi comunque... Questo è molto ingiusto, però lo dico. Hai ragione, ma giuro che sarà l'unica volta in cui farò questa cosa. Ma guarda... E poi invece... Tutti i testimoni, vabbè. Vai, vai, no, ok, mi assumerò le tue responsabilità. Preferisci il film più cringe che tu abbia mai visto nella tua vita, che provoca un profondo disagio e che è la cosa più 2008 che sia stata mai creata dall'uomo. Ok, non può essere Twilight, perché ho già visto Twilight. No, non è Twilight, ovviamente. Oppure puoi scegliere Enathaway con un pizzico di magia. Allora Enathaway con un pizzico di magia mi suona familiare, quindi... Non lo so. No, penso che andrò per il cringe. Giusto perché me l'hai venduta così e adesso ti metto alla prova. Secondo me non è la cosa più cringe che abbia mai visto. Non ti credo. Voglio vedere. Io ho seriamente paura. Allora, ok, hai scelto... hai fatto la scelta... Ti ho sorpreso, eh? Sì, cioè... Pensavi mettere Enathaway lì davanti, ma io non ti ascolto. Io non cedo. Allora, in realtà questo film era il primissimo che io ti volevo far vedere, perché è un mio cavallo di battaglia. Quando io incontro qualcuno di nuovo gli dico, ma tu hai visto questo film? Perché se una persona ha visto questo film, nell'età in cui va visto questo film, c'ha dei problemi, quindi ci possiamo capire. Ah. Ok. Ho scoperto oggi di non avere problemi, ragazzi. Esatto. Che bello. Grazie, dottoressa Giulia. Vabbè, oddio io. Non ci credo che stai per vedere sta roba. Allora, gli indizi sono due. Oh. E poi ho delle cose che vorrei che trovassi nel film. Va bene. Ok, quindi. Ma so già che comunque non lo indovenerai, perché è, posso dire, è un film un po' di nicchia. Oh, wow. Siamo cinefili oggi. La nicchia. Fantastico. Allora, gli indizi sono. Olivia Scolane. Scusa, perché hai detto Olivia e ho detto Rodrigo, però poi ho detto Ascolane. Olivia Scolane. Tutto è andato a rotoli. Olivia Scolane, ok. Un gatto in costume. What? Un costume da bagno? No, svariati costumi. Ah, un gatto in costume. Questi sono gli indizi. Un gatto in costume e Olivia Scolane. Aiutatemi. Posso tornare indietro? Mi sto pentendo maramente di tutto. Un gatto in costume. Cioè, diversi outfit, cos'è? Sanremo. Eh, tipo, sì. Ok. Oh, no. Poi ci sono le varie cose che dovrei trovare all'interno di questo film. So già che una di queste... Vabbè, ma... Se c'è di nuovo Taylor Swift... No, incredibilmente no. Impossibile. Incredibilmente no. Era troppo. Può essere. La prima cosa che dovrei trovare è Terra di Hobbit. Terra di Hobbit. Ok, la Nuova Zelanda, quindi. Sì. Ah. Attenzione. La seconda è Vanda Maximoff. Vanda Maximoff? Addirittura. Allora, questa io l'ho scritta, ma ti giuro non mi ricordo neanche io perché l'ho scritta, ma poi mi verrà in mente di nuovo. Shrek 2. Va bene. Così, a random, Shrek 2. Che, ricordiamolo, è molto meglio dell'uno. Sì, sempre. E l'ultimo, ma non per importanza, anzi, questo doveva essere il primo, la prima cosa che avrei dovuto dirti su questo film per invogliarti a vederlo. Ok. Le tette della regina Elisabetta. Eh? In che senso? Quella regina Elisabetta, la seconda? Quella, la seconda. La seconda, è anche la prima che, vabbè, c'è una storia un pochino più... No, la prima. La seconda. La seconda, sì. La seconda. Proprio Lizzi. Quella che... Ci ha lasciati. Se n'è andata la scena, non mi sento lasciato da Lizzi. Ma io non voglio vederle. Non ti preoccupare. Ma non me la sento. Mi tiri in... Episodio 3, io scendo. Io mi tiro indietro. Non posso. Le tette della regina Elisabetta. Non riusci neanche a indovinare fra un milione di anni. Lo so, ma perché se l'ho detto, è troppo di nicchia questo film. È troppo per cinefili avanzati. Va, quindi te lo dico. Eh, devi. Non c'è... Allora. Posso fare delle ipotesi, ma... No, no, no. Posso... No. Non lo so se vuoi farle, sì, però... La mia mente ha solo due cose in questo momento, come immagini, e... E sono brutte. Non le voglio ripetere. No, dimmelo, devo... Allora. Abbiamo parlato di Rizzi, proprio perché questo film è ambientato in Inghilterra. Ok. Quindi abbiamo degli accenti inglesi incredibili, e per questo io ti invito a vedere il film in lingua originale. Certo. Per apprezzare le sfumature. È appunto un film del 2008, e si chiama Angus, Thunks and Perfect Snuggins. In italiano è stato tradotto come la mia vita è un disastro. Sono completamente ignaro di tutto. Ok. Poi ti dico solo che è un film di Nickelodeon. Oh, wow. Lo so, non te l'aspettavi. Mi aspetto la melma arancione da qualche parte di Nickelodeon. Già. No. È un film di Nickelodeon. Mi puoi ripetere il titolo con la tua pronuncia british molto... Angus Thunks and Perfect Snuggins. Angustanga e... E Limoni perfetti. Non so come altro tradurlo. Nickelodeon nel 2008 aveva... Ma infatti a me sta cosa ha scioccato, perché se tu vedrai il film capirai che... Non so quanto sia adatto al suo target. Nickelodeon cos'è? Dai 9 ai 12 anni? Tipo, esatto. Abbiamo lette della regina Elisabetta II. Sì, ed è proprio per questo che all'inizio ti dicevo, se non hai visto questo film vuol dire che hai avuto comunque una vita per lo meno normale, perché io ho un sacco di traumi legati a questo film. Sto cercando di immaginare cosa potrebbe succedere, cioè... È inimmaginabile. Non voglio neanche la sinossi. No, no, ma non te la do, non te la do, perché poi ci sono anche un sacco di... Vabbè, non dico niente. Angus. Ti dico solo che è un teen, ovviamente, stiamo parlando di Nickelodeon, quindi penso lo immaginassi. Ecco, io questo film l'ho visto, se non... appena uscito comunque giù di lì, cioè ero piccoletta, ero alle medie, oltre ai traumi, però mi piacque molto perché parla proprio dei problemi adolescenziali che però io non vivevo, ma comunque mi piaceva guardarli. Cioè nel senso, non so come spiegare questa cosa. I personaggi in questo film hanno dei problemi adolescenziali che però sono un po' troppo, cioè non so come... sono tipo assurde, non hanno senso. Ok, è una roba da ricchi, immagino, visto che c'entra la regina Elisabetta. Un po' sì, esatto, cioè... Vabbè, no, forse... Vabbè, diciamolo. Il problema principale della nostra protagonista è che vuole fare una festa figa. Ah, stella, eh beh, sono problemi. Sono problemi, però vabbè, no, ma ci sono anche altre cose in realtà, adesso ho voluto sminuire così. Non lo so, dicendo così, io mi aspetto un misto fra Project X e Saltborn. Allora, sai che... Ha fatto una faccia abbastanza convinta. Il fatto che tu abbia nominato Saltborn mi fa pensare ad una scena in particolare che secondo me guarda anche un po' alla lontana, ma si avvicina ad alcune delle cose presenti in questo film e questo dovrebbe farti preoccupare molto. Eh, sono già preoccupato, ma ho abbandonato, cioè, sono rimasto solo io, tutta la mia voglia di vivere è uscito dal corpo, quindi... No, in realtà sono super curioso in realtà, perché non ci sarei arrivato neanche tra un milione di anni, se mi fossi messo a elencare parole diverse, le tette della regina Elisabetta non sarebbe uscito, cioè, sarebbe uscito comunque dopo le tette di Margaret Thatcher, capito? Cioè, questo è il livello di... Hai ragione. Aiuto. E niente, quindi, cioè, io non vorrei dirti altro, perché secondo me è proprio una di quelle cose che devi affrontare di petto, senza sapere. Sì, non c'è molta suspense in questo momento perché non ho proprio idea di cosa aspettarmi, so solo che per sopravvivere dovrò farmi un cesto di popcorn deluxe, perché... Sì, fa... Ho bisogno di essere ancorato alla realtà mentre guardo questa roba, credo. Sì, assolutamente, se poi hai bisogno chiamami, perché capisco che può essere pesante. Angus, Tanks, and... Perfect Snuggings. Perfect Snuggings, wow. È molto inglese, è molto cringe. Molto cringe, è molto Nickelodeon. È molto Nickelodeon e molto 2008, soprattutto. Ho una paura fottuta di quello che sta per succedere. Bravo, è giusto. Che cosa posso fare? Devo andare? Sì, devi andare, devi andare. Devo andare. A me dispiace, mi sento quasi in colpa. Sì, sì, faccio un giro di telefonata ai parenti, poi vado. Va bene, ok. Non si sa mai che... E niente, quindi a dopo. A dopo, speriamo. Se non ci sarà una puntata quattro... Sapete perché. Chiamate il raccarlo e ditegli... È andata così. A presto, spero. Sta scappando dal party con il costume d'oliva ed è già super inappropriato. Non perché sia successo niente, ma perché la canzone è spintissima. E hanno 12 anni, che cazzo succede? È una frase che condivido, me la porto dietro. È veramente sbagliato avere 14 anni. Bravi. Mi piace un sacco questo film. Ma non è il tizio di che cazzo quello, il tipo col gatto? È lui. Se la trama del film è che lei non vuole andare in Nova Zelanda... No. Lei deve andare... È bellissimo. Andate in Nova Zelanda. Allora. Ok. Mi fa ridere. Ogni volta che parlano del gatto invento una balla più grossa dell'altra. Tipo che è stato cresciuto da... Da dei castori scozzesi. Non lo so, è bellissima questa cosa. Ci sono cose nella vita di un essere umano che vanno inevitabilmente affrontate e scoperte per poter vivere serenamente. Il reggiseno speciale della regina Elisabetta non è una di queste! Bentornato. Uè! Come va? È stato molto meno terribile di quanto hai descritto, in realtà. È stata un'esperienza metafisica, come al solito. Ok, sì. Per farla breve, ero molto più preoccupato all'inizio del film che alla fine, devo dire. Ok. La prima mezz'ora è stata un... veramente difficile. Lo so. Allora, andiamo con ordine. Intanto, prima, faccio un mini riassunto della trama. Giusto, è vero, hai ragione. Perché se no, chi ci ascolta dice, ok, bello, ma quindi? Questo è il classico film della ragazzina con un po' di amiche che vuole trovare un ragazzo e tiene un diario che però non si vede dove descrive la sua vita. e succedono cose, però in Inghilterra. Questa è la parte fondamentale. Quindi è il classico team movie... Solo che... Allora, io quando penso ai team movie, penso a robe tipo, che ne so, American Pie, no? Perché sono film scritti da persone molto adulte, con umorismo molto adulto, dove però i protagonisti sono dei ragazzini, che però sono interpretati da persone adulte. E non lo so... Quando dico che questo film è difficile all'inizio, che è perché i primi 30 minuti sono... Non a livello American Pie, però puntano lì, però gli attori sono piccoli. E questa cosa è... È terrificante. Almeno all'inizio veramente non... Non mi aspettavo... È così esplicito, pur... Cioè, senza voler passare per bacchettone, però... No, no, ma io sono super d'accordo. Cioè, a me cringia per questo. Perché ci sono delle cose che... Allora, ammetto quando l'ho visto la prima volta da ragazzina, ti medesimi, ok? Giustamente. Cioè, alla fine... Esatto, alla fine comunque è vero che i ragazzini parlano anche di queste cose molto esplicite. Però poi, adesso, da grande, col senno di poi, penso a delle persone adulte che hanno preso dei ragazzini, le hanno fatto fare e dire certe cose, e dico... Su Nickelodeon! Esatto, e dico... That's weird. Per capirsi, nei primi 30 minuti vengono dette le parole sex god almeno 5-6 volte. Perché arriva in città un ragazzo nuovo, molto carino, e la protagonista è... E vabbè, meno male che l'ho visto in inglese, perché in italiano sentirli chiamare Georgia tutto il tempo... Georgia. Penso sarebbe stato... Difficolto. Terribile. E Georgia vuole... Vuole uscire con... Uscire... No, vuole fare tante cose con questo ragazzino. È solo che... Quello che dice e poi quello che succede, non combaciano. Cioè, parla come se fosse in American Pie, e poi però si comporta come un film di Disney Channel. E io non so se il connubio di Nickelodeon fosse questo. Allora, no, secondo me voleva essere un modo realistico di rappresentare queste cose, perché almeno... Parlo per la mia esperienza super personale, cioè io mi ricordo che con le mie amiche, tipo alle medie, magari, cioè, parlavamo di queste robe, però poi, cioè, nessuna di noi avrebbe mai avuto il coraggio né di dirle ad alta voce a qualcun altro, né, cioè, tanto meno di farle, capito? E quindi era proprio, cioè, io l'ho vista più come un... Cerchiamo di fare una rappresentazione realistica delle ragazzine adolescenti. Sì, però poi vedo anche... Però tu maccio. Non lo so se è tu maccio, perché vedi che è tratto da un libro, viene scritto a un certo punto nel... E quindi forse sono solo gli inglesi, forse siamo noi. Ma infatti questo è un elemento importante, secondo me. Cioè, questo film è molto inglese. Sì, ma non nel modo in cui ti aspetti. Ho fatto una linetta sul foglio ogni volta che ho trovato qualcosa di cringe. E sono, ok, sono solo 15 linette, però sono tutte nei 30 minuti iniziali del film. Dopo, tranquillo, cioè, classico film per adolescenti con le storielle, le musichette, le scene sotto la pioggia, cuore a cuore. Però all'inizio, cioè... Tremendo. Tremendo. Dallo stalking ai ragazzi, allo stalking alla tipa del ragazzo, con tanto di inquadratura serrata sulle chiappe di questa coltanga. Una scena incredibile. Loro che si tengono le mani sotto il culo per farseli addormentare, e poi si toccano le tette per dire... È così che ci si sente qua. Lo sconosciuto, lo chiamano. Oddio. Ok, tutto questo all'inizio, e poi dopo bacini, ciccini, riccini, le feste. No, però effettivamente potrebbe essere un modo per sviarti. Cioè, all'inizio ti traumatizzano, e poi tu sei talmente tanto traumatizzato che dici, ah, vabbè, però alla fine sto film, cioè, questa seconda parte è anche carina, quindi bello. Ah, ma è carina, cioè... Solo perché hai avuto sto trauma iniziale. È normale, la seconda parte è normale, cioè, torna tutto normale. Ma, vabbè, allora, quello che mi hai detto, Olivia Scolane, vabbè, prima scena, lei che arriva alla festa vestita come un'oliva, grandissima, età dell'innocenza perduta, così, in una scena, dove anche le amiche l'hanno tradita, questo molto grave, questo molto brutto. Lei va a una festa in costume, a tema, e il tema era con le sue amiche, ma le sue amiche si vestono da fighe, e lei va vestita da Olivia Scolane, quindi viene tradita. E diciamo, il tema che avevano scelto era tipo l'aperitivo. Esatto, c'era una roba. E quindi dovevano vestirsi tutte da cose, tipo Olivia Scolane, era un'altra. Invece era la classica festa di Halloween, con tutti... Era Halloween, non lo so. Non lo so, non ne ho idea. Tanto è Inghilterra, il tempo è sempre uguale, non si capisce, potrebbe essere qualunque momento dell'anno. A proposito, aspetta, c'è questa scena bellissima di loro in piscina, che prendono il sole, con il cielo completamente grigio, e questa cosa mi ha fatto molto ridere. Proprio, vado in piscina con i miei amici, e loro inquadratura di schiena beatiche, con gli occhi chiusi verso l'alto, in cielo non c'è niente, in cielo c'è la morte, il grigio, e vabbè, il gatto in costume, durante il film, c'è, non c'è, perché poi scompare per un bel po', poi torna il gatto di questa protagonista, che si chiama Angus, e viene vestito dalla sorellina, in modi divertenti, in modi assurdi, tre volte in realtà, quindi, cioè, far ridere, ma è lì, ecco, posso dire, si vede molto che è tratto da un libro, questo film, perché vengono, ci sono cose che vengono messe lì, e tu dici, wow, non vedo l'ora di scoprire come torneranno, non tornano, mai. La mia preferita di tutte, lei che arriva a scuola, è la preside, che è pure caratterizzata in un certo modo, ha una corpulenta, severa, con la giacca quasi militare, che dice, ah, la preside mi sta sempre dietro, perché io faccio le marachelle, io finisco in punizione, la preside non viene mai più rivista, la protagonista viene mandata in punizione dalla preside, ma questa scena non c'è. Delle cose che volevi che io trovassi, devo confessarti, sono stato pessimo. Ah, caspita, vabbè. Ne ho trovate la metà. Vai. Quelle facili. Ok. Cioè, la terra degli Hobbit, a un certo punto il padre va a lavorare in Nuova Zelanda, e, ok, bello, e, eh, le tette della regina Elisabetta, ho sperato fino all'ultimo che fosse una sorta di codice, un, un modo di dire, un, no, parlavano proprio delle tette della regina Elisabetta, di come sono fatte, di come vengono valorizzate dai vestiti della regina Elisabetta, e io adesso so questa cosa. Devo dirti che da come me l'hai descritto, pensavo che a un certo punto si vedesse la regina Elisabetta e parlassero con lei delle sue tette, ma questo, almeno questo non si è verificato, e spero di non aver dato idea a nessuno, di come riguarda questa cosa. No, spero, spero vivamente di no. Eh, non ho capito. Shrek 2, mi sono ricordata che, praticamente a un certo punto, mi sembra che alla sua festa di compleanno, alla fine del film, mettono una canzone che c'era in Shrek 2, e io quando l'ho vista ho detto, oh, Shrek, e quindi mi sta sognando. Eh, ma non mettono in Nida Hero. No, mettono un'altra, penso. Eh, e allora io pensavo niente. E Wanda Maximo? Eh, ci sei quasi arrivato, perché mi hai detto, ma lui è quello che ha fatto Kikess. Ah, la sorella. E lui è il fratello di Wanda. Ok, ah, non volevi, non volevi darmi troppo indizi, ok, no, ci sta. Sì, il love interest della ragazzina è carissimo Aaron Taylor Johnson, che avrà avuto 12 anni, non lo so, era giovane. Se non sbaglio ne aveva 17. Wow. 17-18. Con i capelli lisci, hai capelli da Disney Channel, però ne parlavo un'altra volta, ha proprio la pettinatura a Disney Channel, incredibile, anche Nickelodeon è stata presa da... È stato il periodo che, insomma, Disney Channel ha monopolizzato i capelli di tutti i ragazzi del globo. Ovviamente in una band, è molto misterioso, fa il fruttivendolo, e... Ah, volevo dire, ecco, una cosa che ho notato, non so se l'hai notata anche tu, la recitazione è normale per tutto il film, cioè, in linea con quello che stanno facendo. nell'ultima scena, alla festa di lei, sono tutti pessimi, ma dal primo all'ultimo. Non lo so, forse erano stanchi. Può essere, però ti giuro, erano tutte... non so rifarle perché io non sono in grado, ma sono tutte quelle scene che vedi tipo all'occhio del cuore, no? Tutte sospirate, e tutte... Oh, Giorgia, sei perfetta per me. Tutti così, e ha detto, ok, ma dura tipo tre minuti, solo in quel momento, e... e quindi, boh, boh, erano stanchi. Allora, la mia ipotesi è, erano in... non in sciopero, come è che si dice? Quando fai più ore. Extraordinario. Ecco, erano in straordinario, e quindi erano tutti stanchi, non ci avevano voglia, e questo, questa è la mia spiegazione. No, sì, no, ma ci sta, voglio dire. Ti vorrei dare dei trivia su questo film? Dammi dei trivia. Allora, la regista è la stessa di Sognando Beckham, quello con Keira Knightley. Esatto, anch'io non me l'ho mai aspettato, però effettivamente c'è quel mood inglese. Non ho visto nient'altro di lei, quindi non so di, però... Sì, sì, però Sognando Beckham è un pochino più serio, molto più serio di questo film. Fa anche un po' più ridere, però... Un pochino, un attimo. Certo, va detto che in Sognando Beckham non viene mai detta la parola sex god, neanche una volta. Hai ragione. Quindi non lo so, non lo so, vedremo. E poi la band, gli Steve Dillans, esistono veramente, o almeno sono esistiti veramente, per un periodo molto breve, ovvero il 2008. Ah. Sì, e hanno fatto, mi pare, una decina di canzoni, e poi, niente, si sono sciolti. Ovviamente Aaron Taylor Johnson non è parte della band, è stato aggiunto. Non è uno Steve Dillan. No. E poi, su questa cosa, ho un fan fact, in realtà per me non molto fan, perché, sai che nell'ultima scena appunto dove suonano, hanno la maglietta con scritto Angus Rocks. Sì. Ecco, io questa maglietta, ovviamente la volevo, e l'ho ordinata da Etsy. Non mi è mai arrivata. No. Già, sono stata truffata. Povero Angus. Poverino. Che possiamo dire, è il vero protagonista di questo film. Quando c'è, sì, a volte scompare, quando c'è molto divertente, a un certo punto diventa un gatto incazzatissimo, che graffia, ringhia, però questa cosa non torna mai, le preste tranquille, si fa vestire, viene chiuso in freezer. Poverino. No, stava bene, mangiava il gelato. No, e poi volevo chiederti anche questa cosa, che si collega un pochino alla roba che dicevi prima, cioè che gli attori sono piccoli, ed è una cosa che ricordo, a me era piaciuta di questo film, quando l'ho visto ai tempi, e che ancora adesso apprezzo, cioè è un film per adolescenti, e i ragazzini sono veramente adolescenti, cioè sono, hanno la tua età, e ti puoi imbedesimare di più. È un valore aggiunto. Esatto, e poi a parte Aaron Taylor-Johnson, che comunque anche ai tempi era, era comunque bellissimo, tutti gli altri sono persone normalissime, e quindi è forse uno dei pochi film teen, comunque rom-com, dove non ci sono dei figoni pazzeschi, perché mi viene da pensare, non lo so, altre cose che guardavo comunque da ragazzina, tipo banalmente, non lo so, Pretty Little Liars, o anche Riverdale, che è arrivato dopo, dove sono tutti tipo mega pompati, dovrebbero avere 16 anni, ma ci hanno tipo, non lo so, sotto steroidi, sti ragazzini. Sì, gli unici sotto steroidi erano appunto Aaron Johnson, il fratello di Aaron Johnson nel film. Esatto, che però alla fine non sono neanche effettivamente sotto steroidi, perché cioè, nel senso, sono molto belli, ok, però non hanno tipo i six pack, o quelle robe assurde, che vedi di solito. E io apprezzo, perché almeno diamo, no, degli standard normali. Ah, no, la scena più cringe forse, però quella mi ha fatto oggettivamente ridere, che quando lei va a lezioni di pomiciate dal tipo, lei siccome non può uscire con questo ragazzo, dice almeno devo recuperare il livello di esperienza, e a quanto pare in questa città c'è questo ragazzino che dà lezioni di, limoni, con tanto di orario e cronometro, sì, non ho capito se ha pagamento, e non voglio saperlo, ci tengo a non saperlo, non dirmelo. Non lo so neanche io, e anch'io non voglio saperlo. Però questa scena è incredibile, cioè, l'attore che fa il ragazzino è spaziale, è bravissima, ha uno swag che non ti aspetti, ho anche lui il cappello a Disney Channel, non gli vedi neanche le orecchie, cioè, proprio completamente in un casco, con questa faccia proprio inglese, i dentoni grandi ma non sporgenti, e lui si guarda con questo sguardo super confident, si mette lo spray in bocca per là, cioè, veramente, wow, lui è incredibile. E c'è questo momento di loro che cominciano a pomiciare, partono piano, prima stampo, poi con la lingua, e se arriva alla fine, allora, è una cosa molto stupida, ma per come l'hanno fatta fa super ridere, cioè, loro si staccano dall'ultimo bacio che si danno, perché è finito il tempo della seduta di pomiciata, non mi stanco mai di dirlo, è una seduta di pomiciata cronometrata, vabbè, staccano la bocca, ed esce una quantità di saliva, da tutti e due, inimmaginabile, comicamente esagerata, con tanto di filo, tra l'uno e l'altro. Ti prego. Fa super ridere, dai. No, fa molto ridere, però è una di quelle robe che tipo mi hanno traumatizzato, per la vita proprio. Saliva boy. Saliva boy. E niente, questo momento per me è stato forse il più alto, perché non te lo aspetto, proprio completamente a caso, con tanto di effetti sonori della lingua su lingua, tutto così, e poi questo filo di bava, di almeno mezzo centimetro di diametro, quindi gigantesco, e loro super soddisfatti tutti e due, contenti, lui di aver pomiciato, e lei di fare anche complimenti, sei molto brava, per un... Eh, fa ridere, fa ridere. No, no, fa ridere, obiettivamente sì. Ah, ecco, a proposito di Saliva Boy, ci sono un sacco di questi momenti in cui loro usano delle espressioni... Sì, mi sono segnato degli slang che usa. She's from Bulgaria. Bulgaria, perché è volgare, perché mette il tanga. Il mio preferito è quando lei dice appunto, non ha mai baciato un ragazzo, e fa, I'm not boylingual, niente. E niente, cioè, wow, wow. Boylingual. Boylingual è inarrivabile, penso. Oppure un altro, vabbè, quando vedono che la tipa che odiano, si mette il... come si dice, si imbottisce il reggiseno. Mm-hmm. E c'è una che la guarda e urla, false boobs! Indignata! False boobs! Un crimine! È un crimine! Veramente. È un altro molto carino, è quando ha... non mi ricordo il contesto, forse a una di loro chiedono di uscire, e le viene un foruncolo, un bruncolo, e fa, I'm having a little nervy bee, per dire nervous breakdown. Nervy bee. Nervy bee è... wow, anche quello. I'm having a little nervy bee. Esatto. Anche qua. Ma no. Mamma mia. No, però anche questa cosa, effettivamente, l'ho trovata molto realistica, perché mi ricordo che appunto anche io, cioè, con le mie amiche avevamo tutto il nostro codice di parole strane, che usavamo tra di noi, e quindi anche quello fa ridere, perché obiettivamente sono tutte espressioni what the fuck, però alla fine mi fanno pensare, ah, cute, perché effettivamente funziona così, diciamo. I miei non erano così geniali, però... No, esatto, loro sono su un altro livello. Un'altra cosa che a me fa molto ridere, è anche il momento in cui ci sono Georgia e Aaron Taylor Johnson, che hanno scazzato, e poi si rincontrano, no? Dopo un po', le cose si sono un po' appianate, e lui dice, ti ho scritto una canzone, e lei tutta contenta, tipo, è vero? wow, so cool, e lui risponde, si chiama Bitch in a Uniform, cioè sarebbe tipo la stronta in uniforme, esatto, e lei fa tipo una faccia della serie, oh, oh, ok. no, mi ha fatto molto ridere in quel momento, Bitch in a Uniform, dal nulla, così, perché... totalmente a casa. Perché dopo la grande bava, il film non torna più mai a quei livelli di super grezzume, di così, e poi Bitch in a Uniform, così, a cielo aperto, il cuore spezzato, puoi fare la pace lo stesso, però... sì, però comunque ci voleva, e poi vabbè, un altro però momento, secondo me ritorna a quei livelli, però non così divertente, nel finale, quando letteralmente lanciano il reggiseno della tipa, della platea, però a quel punto... però lì, esatto, era tutto... è tutto infiocchettato dal dali in poi, Cioè, lei che è triste, fa litiga con gli amici, e poi fanno la pace, abbracci, con tanto di musica, lacrima strappastorie, quindi sì, ci sta, diventa super Disney Channel alla fine, e non so dirti se è un bene o un male, perché forse tenere quel livello fino alla fine, dura un'ora e quaranta il film, non dura poco, per essere uno... è vero. Eh, quindi... Ah, un'altra cosa che mi sono insegnato, è quando lei litiga con tutti, poi vai in un viaggio di self-discovery alla fine, per ritrovare se stesse, la pace interiore, si mette a fare yoga, e a un certo punto dice che prenderò l'esempio dai delfini, perché sono intelligenti e altruisti. Che non ho idea da dove arrivi questa... Non lo so. È bellissimo. Secondo me, chiunque abbia visto i video di Barbascura sull'argomento, sa che questa è una grandissima menzogna. E salutiamo, grazie Barbascura per gli incubi. Esatto. No, che... Allora, un'altra cosa che mi fa molto ridere, è anche il rapporto che lei ha con i suoi genitori. È strano. È molto strano, vero? Esatto. Però mi fa ridere. Cioè, è strano, ma mi fa ridere. Sì, non ho capito. A un certo punto non ho capito. Anche lì, prima mezz'ora super grezzo, poi dopo, papà, mamma, siamo migliori amici, vi voglio bene. Sì, esatto. Però forse... Cioè, perché, allora, mi fa ridere, perché c'è tutto quell'aspetto, no, di quando sei piccolo, che... cioè, non vuoi che i tuoi genitori ti mettano in imbarazzo, però loro lo fanno lo stesso, è ok, e tutte quelle gag lì sono divertenti. Però i suoi genitori sono effettivamente molto strani, Eh, però anche per me, solo all'inizio, cioè, si danno dei gran limoni in casa tra di loro, super così, e ci sta che sia disagio, poi il film è dal punto di vista suo, quindi anche un bacetto sarebbe stato troppo, ma ci sta, e poi le dicono... Ah, sì, poi le la sfottano, tipo all'inizio, per come si veste, per come è andata a vestire la festa, lei che è il cuore distrutto, reputazione rovinata, arriva a casa, il padre, eh, Oliva, come sta? Oliva! Ma che vuoi? Ti stronzo! Eh, però anche lì, questa cosa non si ripete più, parte tutto il slut shaming del film, però vabbè, 2008 non è quello. Sì, esatto, esatto. Però sappiate che se avete mai indossato un tanga, siete volgari, e dovreste vergognarvi, sappiate che questo film ci insegna. Ci insegna questo, e anche, cioè, stessa cosa vale anche per le fake boobs, cioè, se usate un registro imbottito, no, mi dispiace, ma... incredibile il 2008, pazzesco. 2008 era, è stato un momento, un momento alto. Giulie, devo dirti che quando mi hai regalato quel tanga l'anno scorso, ti ho giudicata molto male. Devo dire, no, non si fa, non si fa, non sono quel tipo di persona. Ma io ti ho regalato veramente un tanga. No, non me lo ricordo. Ma come, vabbè, ragazzi, vabbè, facciamo, facciamo finire, facciamo un sondaggio, secondo voi, Giulie mi ha regalato un tanga? Votate da qualche parte. Sarà seria, però, l'ho fatto, non lo so. Chi può dirlo? Lo chiederemo a... No, non mi hai regalato un tanga. Non te l'ho regalato? No, non mi hai regalato, perché avresti dovuto regalare un tanga? Ma che me so per gag, cioè, io ogni tanto le faccio queste minchiate, quindi, era, era in character. Ah sì, eh? No, però adesso, insomma, volevo un tuo commento finale, quindi, cioè, se dovessi dare delle stelline a questo film. Ah, tu ce l'hai con le stelline, ci sta. Sì, sì. Allora, sempre portendo dal fatto che questo film non era sul mio radar, ma non era nemmeno sulla mia cartina geografica, e forse è proprio il pianeta sbagliato, ho visto più volentieri questo di Anna Montana. Ah, ok. Cioè, Anna Montana ha molto carattere, per essere quello che è, perché c'è Miley Cyrus, e vabbè, Miley Cyrus è una superstar. Nessuno degli attori di questo film è diventato una superstar, un pochino Aaron Taylor Johnson, ma, vabbè, c'è, proprio, forse neanche lui. è più un momento nel tempo, come dici tu, è un po' indicativo di quando è stato fatto, e quindi è effettivamente particolare. Non ho visto tanti team movie come te, ma ne ho visti abbastanza, e non, questo non è, non è molto categorizzabile, devo dire. no, è un po' c'è, proprio il libro spaiato sullo scaffale, che non c'entra un cazzo, che lo vedi che è lì per riempire un buco, però, se devo dare delle stelle, questo è un, tre su cinque pieno, dai, cioè, proprio strong. a parte questa prima mezz'ora, che arriva tipo, fulmine a ciel sereno, di cattiveria, e grezzume, a gratis, proprio, di bambini che parlano come scaricatori di porto, ok, poi si riprende, però, ha uno strano DNA, ecco, cioè, il DNA di questo film non è facilmente sintetizzabile, non so, no, è una grande verità quella che dici, perché io di team movie, ne ho visti, parecchi, e c'è nessuno come questo, nessuno come questo, è proprio un suo genere a parte, c'è lui, e poi tutte le altre cose, non so, è indefinibile. Quell'amico strano che vedi alle feste ogni tanto, sta lì, fa le sue cose, ti racconta queste storie incredibili, poi scompare nel nulla. Sì, sì, assolutamente, prima che parlavi del cast, mi è venuto in mente, la nostra Georgia è sposata, e ha anche dei figli con Ron Weasley. Ah dai? Yes. Ma pensa, fa ancora l'attrice anche lei? No, mi sa che tutte e due, non fanno più granché, però, potrei sbagliarmi. Che bomber, tutti e due comunque. Ma sì, ma voglio dire, dopo Harry Potter e dopo questo film, cioè, uno dice, ho fatto, ho dato il mio. Tutto lo spettro degli attori bambini su Harry Potter, cioè, era Daniel Radcliffe che ha preso i suoi soldi, e ora fa quello che vuole, cioè, prende i ruoli più impensabili di tutti, si diverte, e poi c'è Rupert Grint, si chiama, che scompare nel nulla, ha fatto tre cose, forse per pagare la casa allo zio, non mi interessa, bravo lui, c'ha i suoi milioni, e chi si è visto, ma chi l'ammazza a quelli? No, bravissimi. Grandissimi. non sapevo, bel trivia. Questo vuol dire che sono, sono, grandi adesso, come noi. Eh, mi sa di sì, mi sa di sì. Come noi. Come noi no, fammi vedere quanti anni hanno, aspetta. No, beh, Rupert Grint sicuramente, perché credo che sia nato negli anni 80. E la Madonna? Eh sì, tutti loro sono negli anni 80. Eh, infatti 88, quindi ha 35 anni, Rupert Grint. Ma gli anni 80 sono 10 anni fa. Georgia, invece, è del 92. Vabbè, ma da bambina, dai. E vuoi sapere un'altra cosa? Si chiama davvero Georgia, lei, nella mia vita? Ma come? No, questa cosa, questa è una cosa stupida mia, gli attori che si chiamano, come un loro personaggio, a volte mi turbano. E questo è il secondo film su due che ti faccio vedere con l'attrice che ha lo stesso nome del tuo personaggio. Sì, ma questa me l'hai venduta come una roba super cringe, che non ce l'avrei mai fatta, e poi invece, a parte una doccia fredda iniziale, è tutto easy peasy, cioè, una crema. Una crema. Va bene, dai, sono contenta, no, perché in realtà, cioè, è comunque, cioè, fa comunque un po' schifo. Aspetta, stavo intanto vedendo gli altri. Fa comunque un po' schifo. Ah, no, vedi, ecco, Daniel Radcliffe è nato nell'89, invece, la Emma nel 90. Ah, tutti in fila, va dai. Yes, scusa, mi ero un attimo distratta a questa cosa. Che salutiamo. Ciao, carissimi. No, però io, allora, te l'ho venduta così all'inizio, perché effettivamente so, cioè, io mi cringio, cioè, io quando lo guardo mi cringio tantissimo, e quindi mi rendo conto che, cioè, se lo devo vendere a qualcun altro, metto le mani avanti, capito? Non mi assumo le responsabilità. No, esatto, dico, non è colpa mia, però, potresti vedere, questa cosa. Potrebbe esserci della saliva. Madonna. Io vi giuro, ragazzi, se dovete vedere questo film, guardatelo solo per la quantità di saliva in quella scena, perché ci vogliono diversi bicchieri, questo posso dire. Oddio. Mi lascio con diversi bicchieri di saliva. Vabbè, oh, sono sopravvissuto, hai visto? Infatti, ma alla grande, sono molto felice. Sono una roccia. di questo, sì, ma non avevo dubbio, dai. E niente, quindi, grazie per avermi fatto vedere questo film. Grazie a te per essere prestato, soprattutto in questa occasione, a vedere Angus. Angus. No, basta, sono pronto a tutto. prossima volta, preparati che... Ma sì, da qua in poi è tutto in discesa. Tutto in discesa. Ma non è vero niente. Io le faccio un culo così. Aiuto! Madonna. Eh, ma perché, appunto, io mi sono giocata la mia bomba. Tu, probabilmente non. Io, in realtà, ne ho tante di bombe, ma così tante che non voglio... Non è vero, sono... Adesso capiamo. Comunque, grazie a voi per averci ascoltato. Speriamo di avervi fatto interessare a questo film. E nulla. Ci vediamo in un prossimo episodio. Ciao! Alla prossima!